Altrimenti si rischia di appiattirsi invece su una dimensione di società che è basata proprio sulla contrapposizione e l'esclusione. Quindi io dico coraggio, impegnatevi, la politica può essere un esercizio meraviglioso, anche di generosità, però va fatto servendo il bene comune e chi ha i valori deve poterlo fare. Grazie.